Un'operazione durata mesi e conclusa a quattro mani tra i 007 italiani e la National Crime Agency britannica che ha portato questa mattina all'arresto di un noto trafficante di migranti, Ahmed Abeid, che secondo gli inquirenti era capo di una diffusa rete che si occupava del facilitamento e del traffico di migranti nella rete tra l'Italia, la Libia e l'Egitto. La maggior parte di queste tratte avvenivano a bordo di Pescherecci. L'uomo resideva in Italia fino a pochi mesi fa ma da qualche tempo si era spostato a Londra dove secondo gli inquirenti gestiva questa rete di trafficanti di migranti e dove questa mattina è stato raggiunto dagli agenti britannici su informazioni fornite dagli 007 italiani.